Punto numero 2, gratifica del libro di giunta comunale numero 47 del 30-07-2011, variazione a bilancio di previsione e esercizio 2011. Allora, la variazione riguarda soprattutto il capitolo per l'asfaltatura delle strade, perché inizialmente erano previsti 20.000 euro, dei quali 15.000 euro dovevano venire da un contributo, tra virgolette, promesso dal BIM e 5.000 euro proventi per concessione di vizie. È noto a tutti la vicenda del BIM, il quale non ha più erogato i 15.000 euro diciamo di oggi su tutti i comuni, non ci siamo trovati sotto i 15.000 euro, però contestualmente la Cassa Depositi e Prestiti ci ha permesso la rivoluzione di una quota residua di somme o spese su un mutuo contratto per le opere di urbanizzazione del BIM e del Marconi pari a 22.322,55. Avendo ricevuto l'ok dalla Cassa Depositi e Prestiti abbiamo pensato, anche perché comunque c'era l'urgenza, ben visibile a tutti, di una sfatatura straordinaria delle strade, tra l'altro aggiungo anche che abbiamo proprio fatto solo delle pezze, non abbiamo fatto grandi interventi ma purtroppo la disponibilità finanziaria è quella che è, era quella che di un titolo spendendo tutto con lavori già eseguiti 28.342 euro e niente, questa è una rettifica di giunta che dovremmo passare in consiglio fatta a luglio e sapete che avevo tempo 60 giorni per poter dare seguito al provvedimento e dunque lo portiamo in consigli comunale. Se vi sono delle osservazioni, allora prendiamo in votazione favorevoli.